Cosa stavano con Cantu? Con Cantu è che lui di Small Blind, 14, io sfido donna di pizze e cappa di cuori, colla semplicemente, non ho rilanciato assolutamente, non so che c'è lui, il flop è 10 di fiori, 3 di quadri, 7 di fiori, il laterale di fiori, lui esce con 26.000, semplicemente colla, 3 di quadri, 9 di fiori, lui aveva giocato con 3 di quadri e 9 di cuori, quindi lui ha fatto la doppia e gli ho chiesto la scala, lui mette 47.000, io gli scanto il dito, come per dire c'ho le fiori o ti sto bleffando, lui ci pensa, ci ha prezzato due minuti, colla, lascia un aspetto, no no, ha scoperto King Queen, lui ha detto 3 or 9, invece 6 di cuori arriva, il capo là. Grande Nicolò. Non mi ha fatto mai essere, grazie a me, grazie a me, grazie a me, come fai? Grazie a me.